Come? Dimagrire velocemente facendolo anche a casa. Ora vi farò vedere una sequenza di esercizi da fare a casa senza pesi, quindi non avete scuse, andrete a colpire le gambe, i glutei e l'addome in maniera progressiva, fra un po' lo andiamo a vedere, ma prima la sigla. Bene, benvenuti a tutti in questo nuovo video, vi do il benvenuto quindi sul mio canale YouTube Soluzioni Joe Fitness, se ancora non l'avete fatto iniziate a seguirmi e cliccate sulla campanella perché così verrete avvisati sui prossimi video che posterò. Me l'avete chiesto in tanti, Joe sì, abbiamo visto le combinazioni di esercizi che ci hai fatto vedere con le kettlebell, con il bilanciere che stanno nella sezione, ve lo ricordo, zero scuse del mio canale YouTube, ma come possiamo ovviare all'assenza di attrezzi? Come possiamo allenarci a casa? Come sapete esistono milioni di esercizi, ora vi farò vedere una sequenza molto efficace, complicata, che certamente non potete fare al massimo sin dalla prima volta, ma dovete porvi l'obiettivo di riuscire a essere più performanti possibili. Come? Ok, tra un po' ve lo spiego, ma prima di tutto dovete prendere carta e penna, segnarvi gli esercizi e indicare sulla carta i secondi o le ripetizioni che avete fatto la prima volta. Tutte le volte dovete segnarvi tutto quello che accade durante il vostro workout, quindi il numero di ripetizioni che riuscite a fare, il tempo di recupero tra un esercizio e l'altro, alla fine di ogni serie avete del tempo di recupero e dovete segnarlo, perché tutte le volte che vi allenate dovete andare in progressione solo in questo modo e senza inventare scuse certamente, sono Gio Ametrano, chi mi conosce sa che ci tengo al lavoro fatto in maniera precisa e non approssimativa e da tanti anni faccio questo lavoro in palestra, anche come personal e devo dire, con tutta onestà, che non tutti riescono a ottenere risultati, perché non tutti hanno l'approccio mentale giusto. Se hai il giusto approccio, usando delle metodiche che magari un professionista ti può raccomandare e avendo la disciplina di farli in maniera costante e senza sgarrare poi nell'alimentazione, i risultati certamente li avrai, anche se dovessi avere una genetica ridicola. Sì perché adesso tutti quanti che ho fatto della genetica, no a me la genetica fa schifo, allora basta, bisogna dire basta. Non tutti abbiamo una genetica spettacolare, fantastica, pazzesca, ma tutti possiamo avere dei risultati. Ci metteremo un po' più di tempo, ci metteremo un po' più di impegno, ma se davvero vogliamo arrivare a quel punto, certamente lo possiamo fare. Ragazzi fa caldo, ma ciò nonostante io vi farò vedere in prima persona, so che è faticoso, come si fanno questi esercizi. Suderò, ma lo faccio per voi, perché me l'avete chiesto in tanti e ci tengo ad essere professionale anche d'estate. Io ho appena finito il mio workout, sono stanchissimo, sono fatto la doccia, mi rifarò una sudata per voi. Spero lo appreziate. Guardate, venite con me e cercate di non perdervi niente. Sarà difficile spiegare e fare gli esercizi, ma spero di darvi qualche indicazione in più, anche se magari non sono perfetto nella combo. Ecco, parola, esercizio. Andiamo a vedere. Eccomi qui, ora vi faccio vedere gli esercizi di cui vi parlavo prima. Ovviamente tutti a corpo libero, potete farli a casa, in palestra, dove volete, se siete in calveggio, potete farli ovunque, anche in spiaggia. La cosa fondamentale è una superficie piatta sulla quale potersi muovere tranquillamente senza avere problemi e se volete potete utilizzare un tappetino morbido, perché così ora vi farò vedere gli esercizi dove le ginocchia potrebbero magari risentire se le appoggiate direttamente per terra. Allora, il primo esercizio come riscaldamento lo fate per un minuto, inginocchiati, fate uno, due in piedi, poi ritorno col destro e salgo sempre col destro. Lo faccio per 30 secondi e poi cambio gamba. Quindi faccio 30 secondi col destro, 30 secondi col sinistro. Ok? Ora ve lo faccio vedere anche lateralmente, anche se questo è abbastanza semplice. Quindi, ecco, salgo solo col destro, destro, destro e poi lo faccio anche col sinistro. Sinistro, sinistro, sinistro. Ok, lo faccio 30 secondi da un lato, 30 secondi da un lato, come vedete è già abbastanza impegnativo. Secondo esercizio sono gli affondi, affondi frontali, torno nella posizione di partenza, affondi posteriori, quindi reverse e affondi incrocio. Ora ve li faccio vedere, quindi frontali, centro, dietro, centro, laterale, incrocio. Quindi frontali, centro, dietro, centro, laterale, incrocio. E lo faccio con l'altra gamba. Quindi, centro o incrocio. Cambio gamba, centro o incrocio. Se volete, potete farlo prima tutti a una gamba e poi tutti all'altra. Se volete lavorare sul quadricipite e meno sul gluteo, allora da fondo in avanti deve essere breve. Faccio vedere. Deve essere breve. Se volete lavorare sul gluteo, il lavoro è più ampio. Magari andando leggermente in avanti col busto e tornando indietro. Quindi, quadricipite, questo, gluteo, e torno. E lo stesso vale per il posteriore, reverse. Se vado indietro, se vado indietro lungo, lavoro di più femorali e gluteo. Terzo esercizio è il mountain climber, famoso, ora ve lo faccio vedere. Posso farlo o in questa posizione, quindi faccio, oppure posizionando i gomiti a terra e quindi un po' più complicato. E lo fate prima per 30 secondi, poi man mano lo potete fare per un minuto. Se volete lo potete fare meno rapido e quindi in questo modo, facendo questo, che è diverso rispetto a questo. Mi sto rendendo conto che fare gli esercizi e spiegarli è complicatissimo. Avrei bisogno di qualcuno che vi faccia per me, quello che vi farà vedere come seguire e dove andare a migliorarli. Il quarto da fare nella prima parte è il barbisi. Ecco, anche il barbisi abbiamo tanti modi per farlo, perché quello completo sarebbe questo. Invece noi, inizialmente, lo possiamo fare con questo volo. Vado giù, indietro, senza fare push up, ritorno in piedi. Poi, col tempo, possiamo fare il push up e poi il saltello. Quindi, push up, vado giù. Fondamentale, quando si ritorna con i piedi, bisogna farlo con la pianta dei piedi per tempo, non sulle punte. Quindi, non è questo sulle punte, ma è, devo appoggiare completamente la pianta dei piedi. Poi, per chi non sa fare il push up, quindi per chi non sa fare questo movimento, potrebbe fare questo. alzo prima le braccia, facendo leva sul ginocchio, vedete, e poi le gambe. Quindi, come vedete, avete tanti modi per poterlo fare in base al vostro grado di allenamento. Ora, questi quattro esercizi li dovete fare o in rapida sequenza, se siete molto allenati e se non dovete parlare come sto facendo io, oppure, potete fare uno, recuperare un minuto, farne l'altro, recuperare un minuto, fare l'altro, eccetera, eccetera. Alla fine dei quattro, vi dedicate all'addome, con crunch, crunch, leverage e plank, tre bastano, e ripartite con questo esercizio. Questa sequenza? La prima, salgo e scendo dal ginocchio, faccio 30 secondi a destra, 30 secondi a sinistra. Secondo esercizio, affondi, frontali, reverse e incrociati, per gamba, dovremmo fare sei. Quindi sei avanti, sei dietro e sei incrociati, e dall'altra parte. Iniziamo con sei, poi ne possiamo fare otto, poi ne possiamo fare dieci. Non andiamo oltre. Se sentiamo la necessità di andare oltre, allora possiamo prendere un sovraccarico, magari utilizzare degli zaini con dei libri dentro. E quindi avremo un maggiore caldo, quindi faremo da sei ripetizioni. Il mountain climber possiamo iniziare da 30 secondi, per terminare con 60 secondi. E infine, infatti, ne facciamo dieci. Se non siamo in grani, possiamo partire da cinque e farne dieci. Per quanto riguarda invece la combinazione crunch, crunch leverage e plank, facciamo 15. 15, 30 secondi. Il plank deve essere fatto senza inturrare la schiena. Quindi, metto i gomiti. La posizione è questa, non questa, ma nemmeno questa. Se poi vogliamo farlo in maniera più difficile, allora invece di forgiare sulla punta dei piedi, possiamo farlo sul dorso e dei piedi, e inculviamo leggermente la parte alta del dorso, ma questo è qualcosa che verrà in seguito. Come terzo elemento del workout c'è la parte alta. Quindi, la parte alta, io vi potrei dire di farla in un secondo momento, non immediatamente, perché è un po' complicata. Cioè, dovete fare i push up e i piegamenti. Cioè, push up, questo. E i piegamenti, invece, con le braccia un po' più larghe. Ecco, questi due esercizi vanno a impegnare molto il tricipo e il pettorale, e a corpo libero, credo, siano abbastanza impegnativi. Allora, considerate il primo circuito da fare tre volte, il circuito dell'addome tre volte, e per le prime due settimane non fate il push up e i piegamenti. Se non riuscite a fare push up e i piegamenti, li potete fare sulle ginocchia, come vi ho fatto vedere prima, e lo fate solo quando vi sentite realmente pronto. Altrimenti, già la parte iniziale va bene. Grazie, sono distrutto, devastato, e l'ho fatto una sola volta. Io vi consiglio, come vi ho detto prima, di prendere nota di ogni cosa. Fatemi sapere tra i commenti se ci sono delle difficoltà, se avete delle problematiche fisiche. Io cercherò di darvi qualche alternativa agli esercizi. Nel frattempo non mi resta che augurarvi. Certamente un buon allenamento. Seguitemi su tutti i social, non mi va a dire in carri, perché l'ho fatto un sacco di volte, ma qui tra i commenti, tra le info, ci sono un po' di link sui quali potete cliccare, per venire a trovare su Instagram, Twitter, Facebook, eccetera. Vi dico soltanto la mail, jofittnet910.com Utilizzatela per info, cercherci il coaching online, o anche se volete suggerirmi dei temi, o magari per complimentarvi, o mandarmi a fanculo, come cazzo volete. Insomma, ragazzi, cliccate tutto qui, avete tutto qui. Alla prossima.